Ciao e benvenuto nel canale. Dopo aver preso tutto ciò che serve, procediamo con la realizzazione del secondo livello. Con l'aiuto del biadesivo, applichiamo gli sfondi. Procediamo così per tutta la lunghezza, fino a terminare il livello. La particolarità di questi sfondi è che le pietre di ogni pannello coincidono, quindi gli sfondi possono essere messi uno a fianco all'altro e sembrare un unico pannello. Se rimangono cavi scoperti, non preoccupatevi, nasconderemo successivamente. Questo prodotto è utilissimo, aiuta ad eliminare molti alimentatori. Le lampadine potete conservarle, in caso di guasti, alle lampadine degli edifici. Procediamo con i collegamenti, colleghiamo tutti i mercatini luminosi e successivamente inseriamo quelli non luminosi. Prepariamo la quantità di ringhere che ci occorre. Con la colla a caldo, applichiamo il rullo pietra che sarà la strada del nostro piano. Allunghiamo la scala e completiamo la strada per tutta la lunghezza del piano. Adesso inseriamo la ringhiera. Con l'aiuto di uno strumento che crei lo spazio fra una ringhiera e l'altra, lasciamo lo spazio che sarà riservato al lampione. Una volta collocati tutti i lampioni, fissiamo con il nastro adesivo tutti i cavi dei lampioni. Una volta terminato, inseriamo gli alberi per nascondere le imperfezioni. inseriamo tutti gli accessori che ci piacciono, tutte le figurine necessarie e siamo pronti per completare con la neve. Grazie di aver guardato il video fino alla fine e mi raccomando iscrivetevi al canale. Ciao! 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 Ciao!